Il prossimo 15 marzo il giudice per l'udienza preliminare deciderà su 56 imputati nel processo febbre dell'oro nero, la max inchiesta condotta dalle DDA di Potenza e Lecce che lo scorso anno portò a scoprire un giro di illeciti guadagni attorno agli idrocarburi che coinvolgeva anche il Vallo di Diano, divenuta terra di infiltrazione di Camorra e mafia Tarantina. Ieri presso il Tribunale di Potenza si è conclusa la discussione relativa alla posizione degli ultimi imputati. Visto il numero alto di persone coinvolte sono state necessarie tre sedute il 20 gennaio, il 9 e il 15 febbraio per valutarle tutte. L'udienza preliminare è stata poi aggiornata il 15 marzo quando si deciderà se il processo avverrà nell'aula bunker di Forni e quanti tra i 56 imputati, molti residenti in provincia di Salerno, verranno rinviati a giudizio prosciolti. Altri tre hanno scelto il rito abbreviato. Le accuse sono a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di frodi in materia di accise ed IVA sui oli minerali, intestazione fittizia di beni e società, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita. Il filone lucano era partito dalla società carburanti con sedia a San Rufo dell'imprenditore di polla Massimo Petrullo e dall'accordo di questi con Raffaele Diana, vicino ai casalesi e attivo da una decina di anni nel Vallo di Diano, e con Michele Cicala della criminalità organizzata Tarantina. L'inchiesta ha attestato un nuovo business attraverso cui clan e imprenditori vendevano ingenti quantità di carburante per uso agricolo a soggetti che poi lo immettevano nel normale mercato per autotrazione, evadendo IVA e accise e frodando lo Stato. Tra i coinvolti è anche un carabiniere infedele di Polla che avvisava di eventuali indagini in corso in cambio di svariate tanniche di gasolio poi vendute a terzi.